Ben a tutti ragazzi, io sono Anna Chiara, sono il nuovo youtuber e il mio canale si chiama Anna Chiara Special Mia madre l'ho voluto chiamare così perché farò tutte cose fighissime, secondo me sono fighissime Poi ho diciamo una campagna, quindi ho anche gli animali E i prossimi video ve li farò E niente, quindi io sono, ho 9 anni, ho aperto il canale senza dire nulla, nulla E i miei genitori, infatti ora sto salutando mio padre